allora benvenuti a questa serata ovviamente ringrazio cristina che si è fatta un lungo viaggio come immaginerette per essere qui ma ho scoperto che ha anche delle piccole radici torinesi insomma quindi ha dei legami con la città allora questa sera parliamo cristina della banda dei carusi di questo episodio dedicato alla tua investigatrice che ormai ha raggiunto gli otto compleanni questo è l'ottavo libro quanti una piccola inchiesta quanti qui in sala hanno letto almeno uno dei libri ma è tutto quindi possiamo saltare una serie di diciamo di cose ok di preamboli era una cosa che immaginavo ma insomma è un po come quando vai all'estero e c'è in una sala di cento persone ce n'è uno che non capisce la lingua e il traduttore deve comunque tradurre per lui allora cristina ti faccio parto subito da una domanda come dire che potrei farti alla fine ma in realtà insomma me la sono segnata per prima leggendo il tuo libro anche pensando al fatto che questi otto indagini sono come diciamo tutte a ridosso una dell'altra a ridosso nel senso che comunque in 4 o 5 anni tu hai scritto questi libri e le indagini sono anche come dire temporalmente molto vicine una all'altra allora ti faccio subito questa domanda mi devi dare delle percentuali ok allora riguarda il tuo rapporto con la con questa serie che oramai insomma dopo cinque anni insomma come come nelle relazioni si è creato un rapporto e vorrei sapere quando ti metterai a scrivere il prossimo o quando hai scritto questo che l'ultimo la percentuale di divertimento la percentuale di diciamo è il mio lavoro ormai la percentuale di dipendenza e la percentuale di pressione editoriale di ripeto se vuoi divertimento deve essere riferita a questo libro sì beh diciamo a questa fase del tuo rapporto questo libro ha una diciamo che è stato scritto in una situazione un po' particolare perché avevo pochissimo tempo per scriverlo e quindi l'ho scritto con una con un'ansia diversa rispetto agli altri ansia non l'avevo messo ma insomma sì però l'ansia c'è soprattutto nel quando poi sono una che sono molto severa con me stessa quindi difficilmente sono buona la prima è difficile che io scriva una pagina e poi così com'è dico no è perfetta la mando all'editore no quindi di solito ci torno sempre per cui alla fine quando hai poco tempo questo ovviamente come tu ben sai immagini no e diventa un problema questo soprattutto appunto perché crea ansia il divertimento c'è sempre a me in audi non mi mette pressione mi dice ma scrivilo quando vuoi non c'è fretta fallo quando vuoi quindi divertimento sì però divertimento sempre e dipendenza dipendenza proprio da questi personaggi dal bisogno di stare con loro c'è sì c'è 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 adesso non ti so dare le percentuali però la dipendenza c'è io mi rendo conto che questi personaggi alcuni soprattutto sono abbastanza parte della della mia vita mi capita abbastanza spesso di pensare di ragionare su cosa fargli fare ad alcuni soprattutto vanina ovviamente su tutti è chiaro il personaggio principale ma devo dire che anche anche patanè è molto presente nei miei nei miei pensieri patanè la moglie sono questa questa coppia è sempre abbastanza presente a volte mi accorgo che quando penso al prossimo libro so sempre già cosa deve succedere a patanè a sua moglie poi magari non so che cosa accadrà nel giallo cosa accadrà a vanina nella sua vita privata però so sempre bene bene o male cosa cosa farà patanè in quel prossimo libro perché lo penso già mentre scrivo quello precedente quindi è sempre un po' ma sei una macchina spietata mentre scrivi uno già stai pensando a quello dopo sì e penso che finché io penso che fin quando sarà così quella sarà il io avrò la sicurezza di sapere che vanina è sempre il mio il mio personaggio cioè anche ma potrei magari affiancarla a qualche altro personaggio diciamo nel tempo però so che fin quando avrò questa questa no questa quando penserò mentre scrivo il libro precedente anche al successivo penso che questo sia un buon segno che ancora il personaggio è molto presente dentro di te parlavi di affiancarlo secondo me tipo al quindicesimo sedicesimo libro comincieremo a fare vanina e maciste vanina e ulc come come totò quanti di voi hanno letto questo libro non dobbiamo parlare troppo non sono del tutto inutile questa sera insomma diciamo non sono del tutto inutile allora ovviamente appunto non diremo molto come sempre direi che qualcosa possiamo dire dell'innesco di queste indagine che parte dalla morte di un ragazzo che si chiama Thomas o Thomas non so come preferisci Thomas fossimo in alto adice sarebbe Thomas ovviamente che è un ragazzo molto giovane che arriva da una famiglia insomma immischiata con la criminalità diciamo così che però ha scelto di emanciparse si è preso tutta un'altra strada e viene trovato morto in un capanno sulla spiaggia una mattina molto presto e a me ha colpito molto un'immagine ci siamo detti prima che io avevo piacere di farvi sentire alcune righe però ho confessato a Cristina che secondo me se le leggessi io per ovvie ragioni insomma non farei un bel servizio per cui ho proprio fatto delle piccole parentesi e Cristina si è offerta gentilmente di leggere qui siamo proprio nelle prime ore dopo il ritrovamento del cadavere quindi le indagini si stanno muovendo nei luoghi che questo ragazzo frequentava Vanina va questo ragazzo era ospitato da una sorta di comunità parrocchia lavorava insieme ad un parrocco insomma che lottava contro la criminalità e aveva una sua stanzetta e la protagonista e un altro suo sottoposto entrano in questo piccolo luogo e questo sottoposto fa un commento di grande tenerezza tra l'altro questo è uno dei tratti che se mi capite qualcuno mi chieda ma scegli un qualcosa da leggere io spesso lego ma perché io ho grande sensibilità allora questo sottoposto è Fragapane il vice sovrintendente Fragapane uno dei due anziani della squadra di Vanina che aveva visto nenti di particolare mi tagliai attorno e vivi come viveva Stuccaruso una stanza nica nica fridda divisa con un altro caruso comodità picca e nenti allora pensai che ci vuole una volontà di ferro per non torrare una re dalla famiglia a guadagnare facile e pensare che forse proprio per sta volontà di ferro ammirevole Thomas ci appizzò la vita mi smosse una tristizia dottoressa ecco beh comunque io non l'avrei letto quasi uguale comunque praticamente uguale senti qui l'indagine come spesso capita poi anche nella tua serie vede Vanina coinvolta diciamo da un punto di vista lavorativo lei è una poliziotta indaga su questi crimini eccetera però qui c'è qualcosa di più perché il legame con questo ragazzo non solo lei lo conosceva ma questo ragazzo ha anche come dire un valore simbolico in questa Catania dove i buoni e i cattivi continuano a la loro lotta sembra quasi biblica ed epocale eccoci vuoi parlare di questo dove è nata l'idea di della morte di un ragazzo perché poi alla fine le storie che costruiamo appoggiano sempre su un morto bisogna scegliere chi muore eh sì allora tutto nasce dal fatto che volevo raccontare meglio la comunità di Don Rosario Limoli che io ho che compare per la prima volta nella serie nell'Uomo del Porto Thomas è uno dei ragazzi che arrivano nell'Uomo del Porto e fanno irruzione veramente in nell'ufficio di Vanina in 15-16 perché vogliono aiutare nell'indagine sulla omicidio di un professore di liceo che era stato ucciso e che era stato quello che aveva insieme a Don Rosario Limoli fondato questa comunità di recupero che era nata per tossicodipendenti poi in realtà nel tempo aveva cominciato a raccogliere anche ragazzi che volevano semplicemente eh proprio riscattarsi dalla loro vita dalla criminalità in cui erano vissuti eh ecco Thomas era uno di questi ragazzi era uno di quelli che più di tutti si facevano avanti si mettevano avanti si facevano avanti Vanina aveva li aveva apprezzati molto perché eh perché un conto è che si facciano avanti quindici ragazzi diciamo di famiglie oneste che hanno vissuti col culto dell'onestà e della cosa e vanno lì ad aiutare la polizia a fare luce su un omicidio e un conto è che invece questo lo facciano dei ragazzi che provengono dal quartiere nel quale potrebbe essere nato questo omicidio quindi Vanina li aveva apprezzati tantissimo nel tempo dall'uomo del porto in poi in realtà il personaggio Don Rosario Limoli che era questo prete di frontiera che aveva fondato questa comunità nel quartiere di San Cristoforo uno dei quartieri difficili del centro storico di Catania eh compare però devo dire che nel tempo ho pensato che volevo raccontarlo meglio e vedi purtroppo come diceva Davide noi giallisti per raccontare una storia dobbiamo far far morire qualcuno allora per raccontare al meglio la storia di Don Rosario la persona che purtroppo dovevo far morire era Thomas perché Thomas era la diciamo il più riuscito dei delle la più riuscita delle missioni di Don Rosario perché era un ragazzo che non solo si era si era riscattato dalla sua aveva scattato la sua vita dalla tossicodipendenza da una famiglia criminale dalla quale si era completamente eh allontanato ma oltretutto lo aiutava tantissimo proprio nel suo lavoro si era era lavorava sul campo andava lui di persona arrivava anche dove Don Rosario a volte non si spingeva e quindi ehm Thomas uccidere Thomas era il modo migliore per raccontare bene tutta la comunità di Don Rosario e quello che questo ragazzo faceva al suo al suo interno quindi nasce da lì la necessità che sia proprio questo ragazzo a morire in questa in questa indagine lui hai già confermato una cosa che come dire leggendo ehm si si percepisce perché poi nei tuoi libri ci sono tanti personaggi cioè queste centrali di polizia è molto affollata di personaggi ehm eh però diciamo che quando quando si scrive non con come nella come nella vita come nelle relazioni non con tutti i personaggi si ha lo stesso grado di confidenza di affetto di stima anche appunto di tenerezza ecco è molto evidente che che Patanè è come dire un po' un come 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 si chiamava l'omino di guerre stellari quello con l'orecchia punta no che che proprio è una bellezza e quando tu lo fai entrare in scena è come se si sentisse che tu proprio ah adesso arriva Patanè e c'è una bellissima scena in cui Patanè che sapete insomma non è più un poliziotto ma insomma viene tirato dentro da da Vanina e lui non vede l'ora di partecipare arriva in commissariato apre la porta e in questa stanza ci sono Vanina e poi c'è Agatha mi sembra una una giovane una giovane gente e Patanè le guarda con con uno sguardo come dire che che ha bisogno di essere interpretato perché poi sappiamo che Patanè è come dire un vecchio seduttore diciamo un antico seduttore e quindi diciamo che anche se non è in pensione anche da quel punto di vista però diciamo la visione della bellezza femminile è una cosa che lo sollecita sempre e infatti Vanina poi lo prende un po' in giro e lui dice una cosa molto bella che mi ha fatto notare che mi ha permesso di notare una cosa che avevo registrato ma non a livello del tutto cosciente posso farti leggere altre tre quattro righe ecco scusa ti uso come lettrice ma insomma eccole queste qua Patanè si accomodo si accomodo davanti alla scrivania lo sa per chi mi incantai picchiai tempi miei la possibilità che due donne poliziotte si potessero trovare a collaborare in un caso di omicidio nella sezione della mobile diretta da una di loro era considerata da tutti periodo ipotetico del terzo tipo ora invece è realtà e non immagina quanto piacere mi faccia ecco questo universo di polizia è un universo pieno di donne Vanina ha ovviamente un incarico importante ma poi ci sono donne diciamo a lei superiori c'è un PM c'è un giudice poi ci sono delle sottoposte poi ci sono insomma ci sono tantissime donne ecco io non so se questo corrisponde realmente a quello che succede oggi in polizia o se come dire è un tuo wishful writing ecco no in realtà se tu poi ci rifletti la percentuale di donne non è altissima perché in tutta la mobile ci sono soltanto Vanina Marta Bonazzoli e Agatha Ristuccia quindi in realtà lei ha voluto Agatha Ristuccia nella sua squadra e ha fatto di tutto perché gliela gliela dessero nella sua squadra ma in realtà poi se vede tutti gli altri sono tutti uomini la realtà il PM la PM donna adesso una realtà è che i concorsi di magistratura li vincono di più le donne degli uomini negli ultimi anni però quella che ho cercato di ripetere un po' è la realtà di una squadra mobile di una questura perché in realtà quando io ho cominciato a scrivere Siendo Sabbia Nera io non avevo al di là di quello che avevo letto nei libri visto nei film eccetera ma io non è che avessi granché di nozioni dal punto di vista proprio della procedura di polizia perché ovviamente sono un medico non avevo non avevo le competenze ecco per cui siccome invece volevo raccontare una squadra e una poliziotta che fosse il più possibile realistica ho cominciato a frequentare tanto questure la squadra mobile di Catania la squadra mobile di Palermo che sono poi quelle in cui ambiento proprio ambiento le scene perché gli uffici sono esattamente quelli sono popolati da personaggi immaginari però gli uffici sono quelli quelli della mobile di Catania corrispondono perfettamente addirittura l'attuale dirigente della sezione reati contro la persona mi ha detto che ha riconosciuto il suo divano nella mia descrizione perché tu ti intruffoli o ti fai arrestare per no mi intruffolo nel senso ogni tanto mi faccio una visita alla squadra mobile ormai mi conoscono non si chiedono più chi è questa le prime volte se lo chiedevano io vedevo poliziotti e mi guardavano malissimo mi dicevano questa chi è che cammina per i corridoi guardando destra e sinistra però in realtà ecco ho cercato quindi al di là di guardare i luoghi eccetera ho anche cercato un po' di carpire qual era cosa succedeva nel mondo della polizia io di poliziotte donne anche con ruoli importanti ne ho conosciute in questo mio girovagare come numero sono ancora molto molto e meno rispetto agli uomini però ci sono e sono sempre di più e sono sono anche abbastanza alcune veramente ho incontrato donne che hanno un ruolo importantissimo nella squadra quindi ecco devo dire che ho cercato di poi oddio Vanina io l'ho creata così come sarebbe piaciuta a me quindi è vero che comunque ho creato un personaggio a me sarebbe piaciuto trovare in un libro da lettrice questo personaggio io così l'ho creata poi ma a te piacerebbe essere Vanina? ma io non potrei mai essere Vanina perché non non avrei neanche il coraggio per essere Vanina quindi non non potrei mai essere lei no una cosa che dà spessore al personaggio di Vanina è il fatto che lei tanto è determinata come dire rispetto al suo ambiente di lavoro dove ha sempre le idee molto chiare su che cosa vuole fare e anche su che cosa pensano gli altri perché lei poi è molto brava anche a intuire cosa passa dalla testa dei suoi collaboratori sia dei sottoposti che dei superiori che come dire è una forma di intelligenza che in questo tipo di mestiere è importantissimo ovviamente però tanto è determinata in quel campo della sua vita tanto è una donna come dire divisa e anche incerta come lo siamo tutti quando invece si parla a volte di sentimenti di esporci perché poi nella sua vita privata è una donna che forse ama Paolo che forse vorrebbe stare a Palermo però in realtà sta a Catania e poi Paolo ha una figlia forse lei vorrebbe conoscerla però non l'ha mai conosciuta però c'è quest'altro medico di Catania che tutto sommato le ronza attorno e lei proprio sicura che non le piaccia non è insomma ecco questa questa parte di Vanina è una parte come dire costruita anche questa a tavolino cioè da una parte c'è la scaletta dell'indagine ci sono questi indizi e poi dopo in questo episodio in questo momento della saga Vanina vive questa condizione sentimentale questi incontri eccetera eccetera oppure quella parte lì è una cosa come dire che viene fuori un po' a briglia sciolta scrivendo il grosso di quella parte viene fuori pagina dopo pagina quello che ho costruito dall'inizio un pochino più a tavolino è la vita di Vanina la storia di Vanina e volevo darle quella storia perché volevo raccontare una storia volevo raccontare la storia di un poliziotto ucciso dalla mafia all'inizio degli anni 90 quindi volevo raccontare la storia di quegli anni lì quindi per raccontare la storia di quegli anni lì alla povera Vanina ho dato un passato un po' un po' difficile perché le ho dato un padre ucciso dalla mafia davanti ai suoi occhi e quindi per proprio per avere una scusa per raccontare quella quella storia che mi piaceva raccontare ricordare rievocare in qualche modo questo è l'unica tratto della vita di Vanina che ho diciamo che ho scritto un po' a tavolino poi la sua e un po' nasce dall'inizio la sua storia con Paolo che è complicata perché la sua storia con Paolo in realtà è stata una storia normalissima che ha camminato su binari perfettamente regolari nel tempo in cui lei era a Palermo e loro avevano una relazione normale alla luce del sole cioè senza nessun problema e tutto il problema è nato perché paradossalmente perché Vanina che fa la poliziotta perché le hanno ucciso il padre davanti agli occhi perché in realtà lei ha giurato a se stessa che nessuno più in sua compagnia doveva essere indifeso quindi perché lei ha capito di essere inerme non poter fare nulla per salvarlo quando aveva 14 anni ed era una ragazzina e aveva giurato a se stessa a di prendere uno per uno questi quattro che avevano ucciso il padre b di essere sempre lì pronta a difendere chiunque fosse in pericolo questa cosa le era venuta benissimo con Paolo Marfitano il suo ex compagno ex non tanto ex adesso compagno comunque quello che le aveva lasciato quattro anni prima a Palermo perché lo aveva salvato da un attentato arrivando al momento giusto e sparando lei prima che sparasse l'attentatore e però questo aveva rotto l'equilibrio del tutto e le aveva pensato aveva deciso e aveva capito che forse in realtà aveva immaginato che la sua capacità di sopportazione di un evento di questo tipo nei confronti di una persona a lei cara fosse arrivata al capolinea cioè io avevo pensato io non riuscirei mai a tollerarle un'altra di attentato quindi è meglio che mi allontani dimentichi Paolo cosa che non era accaduta perché non basta andarsene dall'altra parte per dimenticare una persona ovviamente e addirittura lo aveva se n'era andata via l'aveva lasciato senza dargli spiegazioni addirittura l'aveva spinto fra le braccia di un'altra con cui lui poi si era sposato che si chiama Longo non è bella questa cosa che tu abbia dato il mio cognome a una che è un cognome palermitano a una rovina famiglia sì ci sono dappertutto per lungo e tra i 20 cognomi più di più ma non era una rovina famiglia poverina Nicoletta era una ragazza molto giovane che era innamorata follemente di Paolo e Vanina questo lo sapeva perché era un'amica della sua sorella minore sorella solo diciamo per madre perché Vanina ha una sorella che è sua sorella solo dalla parte della madre che si è risposata quindi lei conosceva benissimo questa ragazza quindi sapeva che con un po' di spinte un po' l'avrebbe lasciato in buone mani pensate un po' aveva anche immaginato questa cosa e in realtà la cosa era andata come sempre non le cose così non è che possono finire benissimo dopo neanche due anni ovviamente Paolo aveva lasciato insomma Paolo e Nicoletta si erano lasciati dopo aver fatto una figlia si erano lasciati prima che lui rincontrasse Vanina l'incontro che avviene in sabbia nera perché prima nella vita di Vanina è anche un po' il motivo per cui io ho scritto il prequel Il re del gelato per farvi vedere com'era Vanina prima che accadessero queste cose che rincontrasse Paolo e quindi Paolo rientrasse nella sua nella sua vita che quindi è una vita sentimentale familiare molto anche la vita familiare di Vanina è complicata anche il suo rapporto con la madre è complicato la sorella la sorella insomma è una che ha due approcci completamente diversi dalla vita professionale alla vita privata ti piace creare dei casini sentimentali alla gente ti diverti si vede proprio che non ce n'è uno che ci abbia come dire un sentimento chiaro diretto vedrete che nel corso di queste duecento e qualche pagina come dire ci sono parecchi movimenti sentimentali nella storia anche dei personaggi diciamo chiamiamoli secondari insomma dei personaggi di contorno senti parliamo poi dopo lasciamo spazio ovviamente al pubblico che essendo ferrato sulla materia ti farà delle domande interessanti forse più delle mie però parliamo di questa cosa del cibo perché qua è una roba che ogni passo ogni interrogatorio sono duemila calorie che vengono ingerite ma ecco cioè Vanina a parte questa sua dipendenza del cappuccino chiaramente che nel prossimo libro devi creare una comunità di recupero per la dipendenza del cappuccino però cioè lei ecco ha una dipendenza dal cibo cioè il cibo è il surrogato di qualcosa nella sua vita sostituisce qualcosa nella sua vita oppure no il suo è proprio un piacere di tipo carnale per il cibo e niente viaggia per un binario suo perché sembra viverlo come una come una fonte di consolazione una grande fonte di consolazione poi c'è anche un altro aspetto del cibo magari ne parliamo dopo prima dimmi cosa ne pensi beh no allora da una ecco diciamo che ci sono due diversi approcci di Vanina al cibo cioè l'approccio del cibo proprio come come da parte di una persona che a cui piace mangiare non sa cucinare Vanina non ha ecco l'approccio di Vanina è mi piace molto questa cosa come si cucina non mi interessa questo è bene o male il suo approccio però ci sono due diversi tipi cioè Vanina c'è l'approccio che Vanina ha quando va a pranzo da Nino per esempio e quello è l'approccio al cibo del pranzo del momento in cui per lei ha fame deve mangiare il momento è un momento diciamo in cui è che lei non ecco piccola digressione i poliziotti della mobile ovviamente dove vanno a mangiare tutti i giorni alla mensa della polizia Vanina la mensa della polizia non ci va va da Nino ha fatto di Nino la sua mensa personale ecco questo approccio al cibo è uno poi c'è l'approccio al cibo di quando Vanina eccede perché cede realmente con i dolci con la cioccolata con il cappuccini con questa tutte queste ecco tutto questo cibo che lei cerca sempre quello è un surrogato quello è qualcosa che le serve le serve per in alcuni momenti come sfogo in altri invece come carica perché per dire ci sono dei momenti in cui Vanina quando va a Palermo ha sempre una ci va sempre con una uno stato d'animo molto molto in tempesta allora ecco in quel caso Vanina se ci fate caso ogni area di servizio mangia di tutto mangia soprattutto roba muffin con la nutella cose di questo genere perché ha bisogno di un carico di carboidrati che l'aiutino sia perché non dorme la notte e questo è importante dirlo perché chi non dorme la notte poi deve compensare con gli zuccheri questo è proprio scientifico e secondo perché deve affrontare qualcosa e ha bisogno quindi è un po' è lo stesso è lo stesso approccio che lei ha con i confronti del fumo della sigaretta cioè è una è qualcosa di compulsivo che lei non lei non riesce a se lei apre il cassettino è in essenza cioccolata le viene l'ansia esattamente come se apre la borsa ed è senza sigarette è uguale è una dipendenza è chiaro che sai quando dicono il costo della vita in Sicilia è più basso che la notte un poliziotto non potrebbe mai permettersi di mangiare fuori tutte le volte al ristorante però l'altro aspetto del cibo e qui c'è una scena finale che mi ha ricordato molto certi musical chi ha letto chi ha letto chi ha letto il libro sa di che cosa parlo chi lo leggerà lo incontrerà cioè il cibo è anche come dire come se fosse una un elemento che si mette in tavola quando due persone si devono parlare infatti quasi sempre quando qualcuno deve dire qualcosa all'altro che sia qualcosa che attiene la sfera sentimentale ma anche la sfera professionale non è che si dicono vengo in ufficio ci sediamo e parliamo no si dice andiamo a mangiare e quindi mentre si mangia è come se fosse come dire un lubrificante della relazione è come se mangiando si sciogliessero certi certi nodi e la scena finale in fondo è una sorta di di trionfo di questo di questo elemento in cui si ricompongono dei tutti i pezzi che nel libro Vanina cerca di tenere assieme ecco perché mi ha ricordato l'aspetto dove ci sono tutti i personaggi questo è molto da musical è molto da musical che alla fine arrivano tutti no arrivano tutti quanti e ovviamente attorno ad una tavolata di Bettina che Bettina è quella che cucina insomma per tutti di lì mi è venuto in mente che Vanina oltre ad essere una che fuma tantissimo poi fuma le Gouloise perché le Gouloise perché questo è un po' è un po' nordico adesso non so poi ci sono dappertutto per carità però le Gouloise li colleghi ad un universo un po' francese del Polar come mai gli hai dato le Polar è tutto nasce da dove nasce il nome di Vanina perché perché l'ho chiamata Vanina io l'ho chiamato Vanina con questo nome non l'ho chiamata Vanina o Giovanna o col suo nome perché tutto viene da un film perché allora la mia io sono cinefila come Vanina ho lo stesso tipo di cinefilia di Vanina quindi anni 60 anni 60 allora Vanina si chiama Vanina per un film il film è La prima notte di quiete con Alain Delon che fumava le Gouloise allora la ragazza che nel film la protagonista femminile si chiamava Vanina in omaggio probabilmente a Vanina Vanini di Stendhal di cui si parla molto nel film film che io ho visto quando avevo forse 18 19 anni e in seguito a quel film ho letto Vanina Vanini che non l'avevo mai letto e questo Vanina mi è rimasto sempre in mente così come quel film che mi è piaciuto molto nel momento in cui ho deciso che la mia protagonista la mia poliziotta si sarebbe chiamata Vanina e a me da quel film ho tirato fuori anche Le Gouloise di Alain Delon ancora adesso sei una cinefila nel senso esplori quel mondo lì molto poi adesso è anche molto più facile e quando ho cominciato io ad esplorare quel mondo lì era difficilissimo trovargli alcuni film adesso è molto più facile ci sono alcuni c'è un raro video ma qui a Torino abbiamo il museo del cinema mi dispiace ma purtroppo qui a Torino però trovarli proprio è difficile adesso c'è movie si scarica selvaggiamente c'è un raro video ci sono quelli i film antichi si trovano anche più facilmente anche tu soffri di insonnia abbastanza questo è uno dei tratti uno dei pochi tratti comuni Vanina ha due tratti un po' in comune con me il fatto di il film la passione per questi film è il fatto di dormire poco soprattutto di non riuscire a dormire la notte quindi ha un po' questo quindi anche il rapporto con le sveglie della mattina chiaramente solo che io però non ho la sveglia antica messa lontana di solito ho la mia sveglia quella del telefonino di solito che con l'incubo di spegnerla nel sonno e non rendermene conto quindi nel caso insomma in cui mi devo alzare presto la mattina io non dormo la notte perché so che penso potrei anche non svegliarmi è esattamente come Vanina che scade dal letto non riesce a svegliarsi si mette questa sveglia lontana perché così è obbligata ad alzarsi per andarla a spegnere non tocca più il letto altrimenti è finita si è anche toccante il fatto che la somma di tutti questi aspetti della vita di Vanina come mangia come fuma come non dorme il risultato e poi quando fa una rampa di scala un po' più veloce ce la fa è sempre lì con il fiatone che è un aspetto molto umano di un personaggio che per il resto invece ha una volontà che sembra quasi da supereroina ti faccio una domanda più più tecnica che riguarda proprio il momento in cui tu cominci a confezionare una nuova storia come dici tu i tempi spesso sono sono stretti e diciamo chi lavora a storie di trama dove ci sono parecchi incastri di questo tipo di solito ricorre in maniera più o meno ferrea a quella che si può chiamare scaletta o diciamo un progetto ecco volevo capire se tu lavori così nel senso che c'è una parte del lavoro che è dedicato soltanto alla costruzione per punti magari della trama oppure oppure no ai altri canali mai anzi più la trama è già definita è più difficoltà a scriverla questo mi sono resa conto nel tempo che il modo migliore per scrivere un libro per me sapere il meno possibile dall'inizio quello che so sempre dall'inizio è io parto sempre dal luogo dal luogo in cui viene ritrovato il cadavere e dalla storia personale della vittima e questo è quello che so benissimo dall'inizio so sempre dove viene trovato come è stato ucciso e soprattutto perché è stato ucciso non sempre so chi l'ha ucciso non parti a scrivere oppure se parto sapendolo so che è una comunque è un'indicazione vaga che ho perché poi spesso mi succede che scrivendo io cerco di vivere l'indagine di Vanina e della sua squadra giorno per giorno come la stanno vivendo loro allora immagino di volta in volta cosa farebbe una squadra di polizia di fronte a questo quindi con relative telefonate amici poliziotti ovviamente cosa che prima facevo molto più spesso adesso ormai più o meno le basi ce le ho quindi lo faccio meno però volta per volta seguo un po' l'indagine insieme a loro quindi a volte quello che accade nella scena successiva io la scena presente non lo so non la so oppure lo cambio ecco succede che a volte arrivata quasi alla fine del libro è successo in tre libri della serie che arrivata alla fine del libro ho cambiato l'assassino perché così come era un lettore di gialli l'avrebbe sgamato si dice a Catania dopo pochissimo tempo quindi ho cambiato l'assassino poi ovviamente cambiando anche tutti i falsi indizi come ben sai ovviamente poi c'è tutto il lavoro da rifare però ho preferito rifarlo perché non mi convinceva più quindi in realtà meno cose so devo sapere proprio l'indispensabile il movente ovviamente deve essere molto certo quello sì